Il tema fondamentale sono le persone, il lavoro e il futuro. Nella visione di ACUPI le persone sono al centro del sistema. Il rispetto, la lealtà, quelli che sono i temi che ci porteranno ad andare avanti in futuro sempre di più. Per il periodo di pandemia abbiamo risolto il problema del lavoro fondamentalmente con il lavoro agile, peraltro il risultato è di brillante. Tutto questo richiede un cambio di mentalità, sia da parte dei dirigenti che debbono abituarsi ad avere il lavoratore anche a distanza, e un cambio di mentalità da parte degli stessi lavoratori. Abbiamo passato dei momenti difficili, ci aspettano invece dei momenti belli, sfidanti, dei challenge importanti. Il futuro è la volontà di aumentare la quantità di acqua che portiamo all'interno e esplorare situazioni innovative come la colpa del Attico. È una giornata per me particolarmente emozionante dall'applauso dei colleghi all'inizio che mi ha anche commossa. È la mia prima vera uscita da direttrice generale di Acquadotto con colleghi con cui ho condiviso, condivido e condividerò tanta parte della mia vita. Noi siamo orientati alla benessere dei nostri lavoratori e al benessere e alla qualità del servizio che diamo ai nostri clienti.